Il suono del silenzio. Care amiche e cari amici, azione e contemplazione devono integrarsi, devono stringersi la mano, una sorta di atto di fiducia cosmica, divina. E nessuna persona, nessuna religione, ha il diritto di fissare le regole per questa unione tra azione e contemplazione ed impadronirsene. Dobbiamo riconoscere umilmente la nostra insufficienza riguardo al saperci mettere sulla strada giusta e dunque riguardo alla conoscenza di noi stessi. Però dobbiamo riconoscere il fatto che facciamo parte di un processo che è la nostra stessa vita e noi non siamo padroni di questo processo. E questo già dovrebbe renderci più umili rispetto a quella che è la nostra situazione umana, anche perché non possiamo in alcun modo fuggire da questo processo. Così come relativamente al mistero della vita e al processo nel quale noi siamo immersi, non può esistere una unica spiegazione a un punto di vista assoluto. Perché la cosiddetta oggettività appartiene solamente alla scienza quando è concepita tra l'altro come un mito. E comunque in ogni caso l'oggettività, il metodo sperimentale, non può trovare posto quando parliamo dell'incontro di religioni, dell'incontro di culture, dove tutto è estremamente fluido e non può essere prevedibile e analizzabile in laboratorio. Perfino quando sediamo in meditazione, a volte possiamo avere un'esperienza mistica, una rivelazione divina. Ebbene, questa esperienza è sempre mediata da ciò che siamo, dal nostro modo di sentirla, di recepirla, dalla cultura e dall'educazione che abbiamo ricevuta. E poi anche dalle parole che possiamo usare per descriverla. Come sappiamo non ci sono parole esatte che possano corrispondere in maniera esatta, a sua volta, ad un'esperienza metafisica. e a questo punto non siamo più in grado di distinguere completamente cosa c'è di assoluto nel comprendere questa esperienza estremamente fluida e fluttuante. Quello che però possiamo fare da parte nostra è, come insegnava Socrate, sapere di non sapere, ossia di venire sempre più consapevoli della nostra situazione di insufficienza rispetto al mistero dell'esistenza. E questo dovrebbe portarci ad una maggiore umiltà, ad un maggiore atteggiamento anche di speranza e in uno stato d'animo in ogni caso di aspettativa come punto di partenza per migliorare la nostra situazione. Oggi questo problema, che è un problema universale, è anche ciò che dovranno affrontare coloro che portano avanti il dialogo interreligioso, cercando una verità comune, o se non una verità comune, dei punti di incontro che possano accomunare, ecco, così forse è meglio, e possano rendere più armonici gli incontri tra culture. E questo non implica soltanto una fiducia verso coloro con i quali ci dobbiamo integrare e dobbiamo avere uno scambio. Ma anche la fede in qualcosa che trascende tutti e che è appunto il mistero dell'esistenza. Per questo dico che la mistica in questo periodo può essere il vero punto unitivo, perché l'esperienza mistica è l'esperienza che porta alla trascendenza, che porta a calarsi nel fondo dell'anima, in quel fondo dove tutti siamo uniti nel silenzio. E qualunque problema ultimo, possiamo chiamarlo Dio, il Brahman, la verità, esistenza, il mistero dell'esistenza, è in ogni caso non comprensibile dal punto di vista razionale nella sua totalità, perché la capacità di comprendere dell'essere umano è molto limitata. anche coloro che pensano di capire in realtà non capiscono mai completamente, comprendono, capiscono solo dal loro particolare punto di vista e dunque dalla loro capacità di comprendere che è determinata da tutta una serie di condizioni che hanno vissuto nella propria vita, a partire dal luogo dove sono nati, dall'educazione che hanno ricevuto, dall'istruzione perfino che hanno ricevuto, dagli incontri che hanno fatto e ogni uomo e ogni gruppo umano può comprendere dunque rispetto al mistero dell'esistenza solamente un come potremmo dire un piccolo riflesso di questa immensità. Nessuno può pretendere di avere un livello di comprensione della verità totale proprio per questo è un limite della nostra condizione di essere umani e allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspirare un'esperienza mistica autentica perché? Perché l'esperienza mistica non aspira a comprendere razionalmente comprendere razionalmente va benissimo come ci ha insegnato per dirne uno Santo Maso da Quino ma come anche ci ha insegnato Shankara no? ma non può essere sufficiente una comprensione razionale per un'esperienza autentica della realtà cosa che rientra invece nella sfera della mistica perché il mistico non aspira a pensare l'essere anzi tutt'altro aspira semplicemente attraverso l'osservazione a lasciare che le cose siano senza interferire sulle cose e quindi non vuole penetrare all'interno delle cose o della realtà per manipolarla in qualche modo ma semplicemente per abbandonarsi e scorrere nel libero flusso della realtà allora se prendiamo un monaco che è realmente assorto ed immerso nella sua contemplazione se prendiamo uno di noi uno dei miei allievi ad esempio che medita quando è centrato non sa neanche di pregare non sa neanche di essere lì a meditare quando ci si immerge nel vuoto della meditazione autentica semplicemente si entra in una condizione dove i pensieri fluiscono liberamente una condizione che non è determinata necessariamente dall'assenza di pensiero la riflessione certo uccide la spontaneità dell'autentica contemplazione di conseguenza dell'autentica esperienza mistica quando si medita non c'è pensatore né c'è qualcosa di pensato c'è semplicemente qualcuno che sa di non sapere questi sono discorsi che possono sembrare misteriosi incomprensibili ma che risuonano sicuramente nell'interiorità di chiunque faccia l'esperienza autentica della meditazione e del silenzio il movimento di una contemplazione senza oggetto procede in realtà in direzione opposta potremmo dire al movimento del pensiero anche se in quel non luogo non c'è alcuna opposizione però come ho detto tante volte bisognerà pur spiegarsi in qualche modo quando sto meditando non sto riflettendo su qualcosa ad esempio molti soprattutto che hanno ricevuto un'educazione cristiana dal punto di vista religioso confondono il meditare con il riflettere su qualcosa magari su un argomento del Vangelo quando medito non rifletto su qualcosa anche se questo qualcosa fosse appunto una parabola del Vangelo o l'infinito manifestarsi di Dio stesso e quando medito non cerco neanche di oltrepassare il pensiero questo è un altro equivoco che ci fa vedere quasi il pensiero come il nostro nemico quindi non è che mi metto in meditazione cerco di superare la barriera del pensiero in qualche modo uscendo al di fuori dai suoi confini non è questo la mistica della contemplazione senza oggetto della contemplazione senza pensieri è tutt'altro proviene dal mistero non proviene da un atto di volontà spesso ho fatto l'esempio del sonno no? quando noi ci prepariamo al sonno con i rituali che tutti facciamo metterci in pigiama spegnere la luce entrare nel letto assumere una determinata posizione ebbene quello non è il sonno quello è un cercare di favorire il sonno e così per la meditazione la tecnica non è la meditazione è un cercare di favorire questa esperienza del mistero questa esperienza del movimento della contemplazione senza pensieri che proviene dal mistero dall'essere stesso e allora quando sei centrato in meditazione in quel momento sei semplicemente inascolto e lasci che la corrente del mistero che puoi chiamare dell'amore della grazia divina della luce dell'essere di Brahman chiamalo come ti pare lasci che questa cosa scorra attraverso di te e questo tipo di contemplazione proprio perché è senza oggetto non può avere nulla come oggetto della sua osservazione e nel caso contrario l'osservato determinerebbe l'osservatore e quindi lo defrauderebbe in qualche modo non solo della sua libertà ma gli fornirebbe anche un oggetto un elemento cioè tipico del pensiero un'altra tre parole quando stai meditando non c'è pensatore perché non c'è anche oggetto o puoi dire all'inverso che non esiste alcun oggetto perché in quel momento non c'è neanche chi pensa anche questo non è un gioco di parole può sembrare una frase di effetto invece è un'esperienza precisa che chiunque sa come centrarsi ha sperimentato nel corso della sua esperienza di meditazione ci sono dei paradossi il linguaggio può sembrare paradossale ma è così la pura contemplazione non contempla la pura contemplazione non contempla niente è silenzio questo possiamo dirlo in quel momento non c'è nessun oggetto ma non c'è anche nessun soggetto nessun supporto nessun punto da cui poter contemplare nessun fondamento sapete cosa c'è quando siete realmente centrati c'è un abisso e quante volte i miei allievi hanno chiesto il mio aiuto perché hanno avuto paura sono arrivati sulle soglie di quell'abisso ma non hanno avuto il coraggio di saltarmi dentro e da qui la necessità anche del maestro la necessità del sangha di altri amici con cui condividere determinate esperienze che restano incomprensibili a coloro che non le fanno quindi la contemplazione non ha supporti non ha oggetti da contemplare non ha paradossalmente neanche un contemplatore ripeto possono sembrare giochi di parole non sono assolutamente giochi di parole tutti coloro che sanno come centrarsi capiscono perfettamente quello che sto dicendo e capisco che questo può sembrare misterioso a tutti coloro invece che non fanno questo tipo di esperienza di meditazione silenziosa perché perché si è abituati a parlare ma anche da questo punto di vista la parola non riesce a esprimere tutto ciò che concerne la metafisica può ragionare forse intorno alla metafisica e quindi fare del proprio ragionamento e del proprio soggetto di discorso la stessa metafisica ma la parola ha dei limiti perché non può esprimere la realtà metafisica la parola può esprimere a malapena degli oggetti delle emozioni che possiamo provare solo la parola che esce dal silenzio è una parola che può comunicare qualcosa e i miei allievi lo sanno benissimo perché me lo dicono spesso quando condividiamo quando facciamo le condivisioni mi dicono beh certo quando ci dici queste cose sentiamo qualcosa che ci tocca qualcosa si è mosso nel mio cuore quando hai pronunciato quelle parole perché la parola che esce dal silenzio realmente riesce a comunicare riesce a comunicare un significato che va oltre lo stretto significato contingente della parola riesce a darti un assaggio di ciò che realmente sei un assaggio del centro e ti spinge verso il centro e quindi riesce a darti un assaggio dell'eternità della metafisica la parola del silenzio non sta a significare parola sul silenzio assolutamente la parola sul silenzio significa parlare riguardo al silenzio allora lì possiamo parlare ore rispetto a cosa sia o cosa non sia il silenzio ma la parola del silenzio è quel silenzio che risiede in ogni parola è quel silenzio che in fondo supera anche la parola ma che è alla base dell'essenza di ogni ente alla base dell'essenza di tutte le cose e che coincide in fondo con l'amore dunque non significa parola silenziosa che sarebbe una contraddizione o un simbolo ma parola che appartiene al silenzio parola fatta di silenzio e qui certo bisogna entrare in un altro tipo di logica qui chi non medita non è affatto abituato e ritorniamo nuovamente ai gigli del campo se riuscite a essere come un giglio di campo riuscite a comprendere benissimo e perfettamente quello che sto dicendo noi possiamo parlare del silenzio certo come possiamo parlare di quello che stiamo facendo adesso o di quello che ci è successo ieri o di qualsiasi altro argomento ma in quel momento non siamo come i gigli del campo siamo altra cosa perché anche se parliamo del silenzio quel silenzio del quale parliamo non è il silenzio reale perché il silenzio non può essere un oggetto del quale si possa pensare o parlare e questo è il mio ruolo da persona esperta è quello di insegnare proprio ai miei allievi di immergersi nel silenzio se io gli parlassi solamente del silenzio tutto ciò non avrebbe senso devo insegnare a immergersi in quel silenzio che ha un potere trasformativo e altrimenti si entra in una infinita contraddizione perché come dicevo non è possibile parlare del silenzio reale perché il silenzio appena pronunci una parola il silenzio sparisce è come se si va con una torcia a far luce cercando le tenebre è contraddittorio se c'è quella luce non ci sono le tenebre e così non si può parlare del silenzio senza distruggere lo stesso silenzio che non richiede alcuna parola non può essere espresso da qualsiasi parola quindi è letteralmente incompatibile con qualsiasi tipo di discorso però noi possiamo parlare del silenzio in altro modo per allusioni ad esempio per questi grandi maestri facevano largo utilizzo di parabole per parlare di qualcosa di cui non si può parlare in realtà per parlare qualcosa dove la parola utilizzata come immagine che è la parola che caratterizza la parabola può in ogni caso stimolare in te l'intuizione di quello che è il suono del silenzio paradossalmente ma in ogni caso il silenzio del quale parliamo non può essere un silenzio reale proprio perché il silenzio non può essere oggetto del parlare come ho detto dunque parlare usando metafore parabole allusioni e allora porteremo le persone ai confini del silenzio ma quei confini ancora non sono il silenzio però possiamo descrivere le zone che confinano con il silenzio e quella è già un'indicazione verso il centro quelle zone che potremmo dire circondano il silenzio e anche qui per forza devo fare delle allusioni perché il segreto è sempre quello di essere come un giglio del campo un giglio del campo dunque non si può parlare del silenzio ma si può penetrare il silenzio perché la parola è la morte del silenzio è il sacrificio del silenzio in altri termini utilizzando un'immagine poetica potremmo dire che quando il silenzio diventa parola uccide se stesso quando il silenzio c'è non può esserci la parola quando la parola appare nel momento dell'apparire uccide il silenzio e a quel punto il silenzio non è più e al posto del silenzio c'è la parola che lo sostituisce pensate quante volte nel linguaggio ordinario noi utilizziamo delle frasi come ma mi ha capito bene sono riuscito a spiegarmi volevo dire che e qualcuno potrebbe dire sì vabbè volevi dire che e allora perché non l'hai detto ma perché diciamo queste frasi volevo dire che perché sentiamo la necessità di intercalare nei nostri discorsi questo tipo di frasi capisci cosa intendo mi stai capendo capisci cosa voglio dire fateci caso soprattutto quando ci sono discorsi profondi come queste frasi diventano un intercalare tra le parole perché accade questo perché in definitiva non siamo in grado di dire neanche ciò che vorremmo dire e allora cerchiamo di comprendere se il nostro interlocutore sta capendo realmente ciò che gli vogliamo comunicare attraverso una parola che nello stesso momento in cui pronunciamo la frase ma hai compreso quello che voglio dirti sono stato chiaro volevo dire che capisci cosa intendo ecco nel momento in cui pronunciamo queste frasi riconosciamo il limite stesso del nostro comunicare della nostra parola perché è impossibile dire tutto ciò che vogliamo dire ma questo anche rispetto a situazioni molto concrete situazioni vissute se noi volessimo raccontare una bellissima giornata trascorsa passeggiando in montagna la settimana scorsa già sapremo che non riusciremo a comunicare tutte quelle sensazioni che abbiamo provato e a far provare al nostro interlocutore un reale quadro della situazione riusciremo a fare qualcosa di molto 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 limitato in realtà proprio perché riconosceremmo il limite del comunicare attraverso la parola quindi come possiamo pretendere di parlare del silenzio riuscendoci a far capire totalmente ed è per questo che insegno il silenzio voi mi sentite parlare nei video molti hanno visto tantissimi dei miei video ma attraverso questa parola ecco posso suscitare in voi una sorta di curiosità relativamente al silenzio di desiderio del silenzio ma poi ecco i miei allievi eh bisogna immergersi nel suono del silenzio bisogna saper penetrare il silenzio ed è un'arte che bisogna imparare non basta non emettere suoni lo stazzito non crea la situazione del silenzio di cui sto parlando che è un silenzio metafisico dove avviene una reale conoscenza e allora dicevo anche raccontando cosa abbiamo fatto ieri non possiamo dire tutto ciò che si vorrebbe dire possiamo dire soltanto ciò che siamo capaci di dire rispetto a quell'esperienza e si può solo tradurre in spazio in tempo ciò che intenderemmo voler dire e questa intenzione può essere certo rivestita di parole ma appunto quel rivestimento è superficiale tutto ciò che possiamo dire perché perché il significato profondo delle cose anche delle cose più ordinarie non può essere comunicato attraverso la parola quante volte gli innamorati ricorrono a frasi del tipo oddio ti vorrei far capire quanto ti amo come vorrei riuscirtelo a far capire in questo momento perché si dice questo perché si sa che la parola è insufficiente altrimenti basterebbe dire ti amo a volte un semplice sguardo tra due innamorati vale molto più che una parola ma ripeto il non pronunciare parole è diverso dal silenzio di cui sto parlando quello è un tacere io sto parlando di qualcosa di molto più profondo quel tipo di silenzio attraverso il quale si può conoscere il mistero della esistenza bene amici riprenderemo il discorso per il momento è tutto un caro abbraccio Marco Cosmo